Riprendiamo. Riprendiamo con un'altra carrellata di immagini che però appunto per noi sono momenti vissuti, sono esperienze. Grazie, nel 2007 il San Pompidou celebrava i 30 anni dell'apertura e siamo stati l'unico dipartimento di un museo italiano a essere invitati per questo evento per gestire a nostra volta appunto un evento lì e quindi questo ci fa onore ma perché siamo andati anche a rappresentare non solo il Castello di Rivoli ma ovviamente la realtà italiana. Peraltro noi in quel momento avevamo, lo abbiamo tuttora ma non esposto, questo lavoro che vedete alla vostra sinistra di Clis Oldenburg e Ciusy Van Bruggen. Loro sono appunto una coppia artistica e Oldenburg fa parte dei maestri della pop art quindi insomma lo possiamo abbinare a Andy Warwick che è forse un nome decisamente più noto. Oldenburg però rispetto appunto a quello che era l'oggetto quotidiano da sempre ha pensato e ragionato su questo oggetto intanto in termini scultori tridimensionali quindi in maniera anche molto materica mi verrebbe da dire e lo ha fatto realizzato appunto ingigantendo questo quotidiano peraltro facendo anche a volte delle performance quindi quello che voi vedete in realtà è legato alla performance del Corso del Coltello realizzato nel 1800-1985 a Venezia in cui appunto questi oggetti venivano animati addirittura c'erano dei personaggi tra cui anche il noto critico Germano Celant che impersonavano appunto anche loro diventavano personaggi all'interno di questa narrazione e quindi animavano le vie di Venezia. Diventava però appunto in questo caso importante il collegamento con il San Pompidou perché noi avevamo al castello questa house ball di Oldenburg dove vedete appunto c'è questo mondo che si porta però appresso quindi c'è questa idea del viaggio del viaggiare del viaggiatore che prende tutto il suo bagaglio e tutto il suo mondo e lo fa viaggiare con lui perché appunto poi sono le nostre certezze le nostre sicurezze questi oggetti ovviamente sono a simbolo di tutti gli oggetti che fanno parte del nostro quotidiano sono legati da una corda, sono realizzati appunto con questi poliuretani, con queste gomme a spugna e quindi sono tutti molli, morbidi, adagiati e fanno parte appunto, fanno meglio presa su questo mondo di tessuto colorato e in contemporanea c'era una mossa che parlava dell'oggetto e degli oggetti al San Pompidou per cui noi abbiamo fatto una proposta in cui poteva appunto essere focalizzato a questa idea di mondo, di viaggio, di oggetto ed è poi appunto l'attività che abbiamo portato al San Pompidou noi come vedete però facciamo sempre fare esperienza perché non è un rifare l'opera ma è un fare esperienza visto che l'altra sfera che vedete sollevata dai ragazzi è stata realizzata al museo, al Castello di Rivoli e poi è stata portata in processione fino al centro storico e poi al centro appunto della città ne approfitto perché mi è stato chiesto nella pausa appunto ma che cos'è che vi diversifica da altre situazioni che possono essere anche torinesi ma che possono essere appunto altri musei, altre istituzioni culturali diciamo che in questo momento un po' in tutte le realtà esistono delle sezioni didattiche, dei dipartimenti educazioni ci c'è un po' dappertutto, per fortuna mi vorrebbe da dire, come dire, una sezione, un dipartimento delle persone che si occupano del passaggio appunto dei contenuti di quella data istituzione, di quel museo è chiaro che poi insomma dipende da quelli che sono gli obiettivi e prima ancora le finalità che ciascuno si pone effettivamente noi che abbiamo insomma anche un nutrito gruppo di lavoro perché Anna Pieronti è la responsabile capo poi ci sono io che sono la referente per le attività di laboratorio, abbiamo Barbara Rocci che si occupa della segretaria organizzativa la Brunella Manzardo che invece segue la parte dell'accessibilità e della comunicazione poi però abbiamo 15, dalle 15 alle 20 persone che lavorano con noi quotidianamente non solo per realizzare i grandi eventi ma anche nel quotidiano perché noi al museo abbiamo ovviamente una serie di proposte come vi dicevo stamattina legate alla collezione permanente o alle mostre temporane e poi c'è anche tutto un lavoro ovviamente legato alla preparazione degli eventi e poi c'è il realizzarli e quindi il gestirli per cui noi sì abbiamo questa particolarità nel senso che per noi è stato importante fidelizzare alcune persone che sono formate comunque con noi al museo nonostante che appunto tutte arrivavano anche laureate anche specializzate dalle università, dall'accademia, abbiamo degli architetti, degli storici dell'arte appunto dei maestri di pittura, scultura o altro però poi la formazione effettiva avviene in museo avviene in dipartimento perché ovviamente poi il lavoro che poi noi facciamo sul campo che appunto è il nostro primo campo, giustamente il museo, chiaramente va in qualche modo invece fatto proprio e quindi il famoso metodo che c'è e non c'è va acquisito direttamente con noi, affiancate da noi e quindi in questo senso sì, mi sento di dire che probabilmente noi ci diversifichiamo perché se anche ai nostri colleghi interessa e spesso lo fanno partecipare o comunque collaborare con altre istituzioni per noi è importante poi, l'avete visto prima nel caso specifico delle 150 Italia e quindi le 150 piazze è riuscire ad animare anche insomma grandi numeri di persone perché poi come dire ci piace veramente pensare di poter arrivare ai più, di poter far fare delle esperienze di per sé anche soprattutto relativamente semplici la tecnica non deve mai essere un limite, la tecnica deve essere una possibilità quindi tutti devono essere in grado una volta appunto sentita la proposta di poter realizzare quello che si sta facendo ciascuno deve poter fare la sua esperienza per cui ciascuno avrà il suo spazio, il suo tempo la sua possibilità di realizzare il suo pezzo però alla fine appunto tutto viene convogliato in un lavoro corale, collettivo e partecipato quindi ci tenevo a fare questa specifica perché effettivamente no allora gli interventi col microfono perché sennò poi non volevo sapere se c'era una possibilità soltanto di sviluppare il concetto con arti visive o perché naturalmente musicali o comunque artistiche in questo punto, dall'etica, per esempio no, devo dire almeno appunto di nuovo le realtà che si cerca di coinvolgere sono le più diverse le realtà che ci coinvolgono sono le più diverse quindi abbiamo collaborato anche con sul territorio nostro con il teatro ragazzi con appunto l'istituto musicale c'è una collaborazione cioè comunque le arti sono assolutamente tutte coinvolte è chiaro che poi diventa appunto importante poi fare dei progetti che possano essere assolutamente trasversali e che possano essere poi fattibili quindi noi non abbiamo come specifico la musica quindi non ci permettiamo di prendere in mano gli strumenti però della musica l'idea del colore, la vibrazione, la forma dell'oggetto ecco su questo tipo di interazione invece ci possiamo lavorare quindi ci abbiamo lavorato e quindi più avanti vedremo anche come effettivamente abbiamo tagliato più che tagliato appunto preso in considerazione anche le altre diverse discipline nel caso di Parigi abbiamo anche trovato coniato un nuovo termine che non, un neologismo che non esisteva quindi abbiamo realizzato le Balmond ma loro ce l'hanno permesso e quindi noi abbiamo realizzato queste Balmond vedete qua ce n'è già una realizzata come esempio abbiamo fatto trovare alle persone sono arrivate famiglie ma sono arrivati anche piccoli, medi, grandi a realizzare questa attività comune noi abbiamo appunto portato queste grandi gigantite silhouette queste sorte di ombre, di oggetti quindi piatti e bidimensionali oggetti comuni, quotidiani dalla pinza alla pinzatrice dalla sedia al paio di occhiali alla presa elettrica all'aspirapolvere il bicchiere c'è una chiave ci sono gli abiti le scarpe insomma la pinza da bucato alcuni oggetti peraltro presi alla storia dell'arte vedi la pipa vedi la pinza da bucato su cui appunto Oldenburg ha lavorato e quindi in questo senso appunto oggetti del quotidiano ma che già avevano anche qualche rimando alla storia alla storia dell'arte abbiamo portato questi enormi enormi comunque grandi pezze queste pezze di gomma spugna colorata non esiste la gomma spugna colorata in commercio quindi ce la tingiamo noi proprio facciamo questi bagni nelle tinozze con la tempera diluita si strizza e poi si rifà il bagno e poi si mette proprio ad appendere come si appendono i panni perché appunto fa parte di una processualità di una manualità che non siamo interessati a non avere anzi ci piace proprio anche come dire farli tutti i passaggi farli in prima persona per renderli possibili e quindi così avevamo appunto quest'altra materia che aveva già anche un minimo di spessore da poter utilizzare per cui le grandi silhouette apposte sopra queste grandi appunto fogli di gomma spugna colorata venivano disegnati dalle persone e poi ritagliati quindi questi in parallelo venivano poi realizzati costruiti e sono la base sono i mondi i mondi che poi abbiamo realizzato totali sette e vedete che qui meridiani paralleli la struttura è assolutamente quella appunto della rappresentazione del mondo nella sua tridimensionalità e quindi come dire dei punti di riferimento che noi usualmente abbiamo e lo stiamo realizzando con la canalina la canalina elettrica quella appunto il tubo flessibile degli elettricisti per cui passano dentro appunto i cavi e quindi invece noi abbiamo scoperto che esisteva questo materiale flessibile l'abbiamo usato per fare una serie di cose ma anche per costruire queste balmond la base delle balmond quindi con le persone abbiamo realizzato in parallelo queste due queste due azioni la realizzazione degli oggetti e la costruzione della base dei mondi e poi questi oggetti andavano a ricoprire e rivestire quindi a dare forma e carattere e anche peso a questi mondi li abbiamo portati in esterno li abbiamo fatti appunto correre nella piazza del Boburg e quindi abbiamo coinvolto anche chi non era arrivato in tempo per realizzare il lavoro all'interno ma ne erano già comunque arrivati molti e poi per poter appunto continuare in qualche modo a utilizzarli a usarli e farli diventare di nuovo una forza colore che si muoveva nello spazio peraltro non abbiamo avuto il problema dello smaltimento perché i francesi ci hanno proprio chiesto esplicitamente di avere ciascuno ha portato via un oggetto non era necessario fosse il proprio e alcuni hanno proprio smontato insieme a noi le strutture e le sono messe sotto il braccio e le hanno portate a casa nei loro giardini e le hanno ricostruite quindi ci è piaciuta molto questa cosa perché visto che per noi appunto la finalità importante è quella che loro potessero in qualche modo lavorare su questa idea di oggetto che da ombra silhouette da oggetto ingigantito potesse poi diventare appunto il proprio mondo da portare con sé e quindi un modo diverso di percepirli di ragionarci di pensarli e poi vedremo come un artista come Tony Craig su questo ha molto lavorato molto ragionato molto pensato per arrivare invece poi appunto a questi mondi trasportati nella piazza e poi per poterseli anche in qualche modo per poter portare non solo il ricordo ma anche l'oggetto in questo caso a ciascuno a casa propria su questa idea della piazza a Bologna in piazza maggiore in occasione di arte in piazza appunto siamo stati invitati quando prima appunto si diceva i diversi ambiti quindi qui sull'idea perché c'era l'abbinamento all'arte fiera libro noi abbiamo realizzato queste pagine che in realtà sono le pagine di un grande labirinto solo questa immagine dove appunto declinavamo eravamo insieme al Marte di Trento e al Mambo di Bologna ciascun museo ha fatto suo un colore noi avevamo il blu il Marte il Giallo il Mambo il Rosso e ciascuno ha realizzato queste pagine che sono diventate per anche un percorso un labirinto percorribile da parte delle persone molti moduli avevamo già realizzati noi molti ne sono stati realizzati direttamente nella piazza con le persone e dalle persone poi li abbiamo tutti appunto montati insieme e sono diventati questo enorme labirinto nella piazza maggiore di Bologna e anche in questo caso di nuovo c'è questa forte interazione con lo spazio con la piazza e questi che appunto comunque in qualche modo rimandavano all'oggetto quindi al libro sono diventati appunto un reale oggetto percorribile anche narrativo perché appunto c'erano elementi narrati c'erano parole c'erano scritte ma c'erano anche oggetti rappresentati ciascuno appunto declinando il proprio colore Marte in piazza è stata anche appunto la possibilità di mettere sullo stesso piano tutti i monumenti a partire dal luogo quindi da Bologna ma a quel punto tutti i monumenti che in qualche modo ci parlano dell'arte e dell'arte contemporanea in Italia e nel mondo quindi abbiamo costruito un enorme skyline e quindi come dire una sorta di paesaggio immaginario perché li abbiamo messi tutti sulla stessa linea d'orizzonte abbiamo realizzato l'azione di pittura alla maniera in cui ci siamo detti prima per cui appunto ogni spazio un colore e quindi la piazza si è riempita di colore ma anche di forma ma anche dell'architettura che è di nuovo il nostro patrimonio che è stata poi anche lì portata a spasso per la piazza e come momento finale conclusivo in realtà abbiamo sezionato e suddiviso frammenti e parti di questa azione di pittura così ciascuno potrebbe apportare un pezzo di esperienza a casa questa è la piazza vista dall'alto sull'idea appunto che poi le azioni collettive e in questo caso dove si dipinge possono essere appunto importanti e corali ci piace pensare che se poi ciascuno nel proprio ambito nella propria città nel suo proprio territorio a dei luoghi che sono in degrado comunque che possono accogliere forme e colori che sono poi le forme e i colori dell'arte per noi come dire di nuovo una risorsa perché le persone possono appropriarsi di quello spazio lo possono possono anche andare appunto a rivisitarlo a ridargli nuova forma nuova vita questo è un muro che noi chiamavamo padania libera perché appunto c'erano queste scritte che inneggiavano la padania e c'erano anche un po' delle scritte non belle da vedere da leggere e quindi da questo muro bruttino degradato abbiamo chiesto al comune di dare la base bianca questo è fondamentale è la prima cosa da fare e dopodiché visto che questo muro vive vicino a quella che arrivo lì è la maison music quindi la casa della musica che peraltro è sede dell'archivio liberovici quindi comunque un archivio importante di tutta quella che è la musica popolare che è stata raccolta da liberovici che ovviamente lui ne ha fatto anche come dire momenti di formazione quindi era una persona che in questo credeva noi abbiamo deciso di realizzare questo muro dedicato alla musica proprio perché di nuovo ci fosse un elemento visivo importante immediato nella città di una risorsa che nella città è ma che non è così immediato che è appunto la maison music perché è un attimino decentrata quindi diventa un elemento che lo segnala ma anche un elemento di congiunzione tra la casa della musica e il castello di Rivoli che è il museo d'arte contemporanea quindi quando prima si diceva l'interazione tra le altre arti noi dove c'è ovviamente la auspichiamo il blu come si diceva prima è il colore della vibrazione quindi è il colore che ci rimanda assolutamente appunto alla musica uno degli artisti come Matisse parlando di jazz ha molto usato il blu e quindi ci piace evocare ci piace evocarli e quindi renderli partecipi in qualche modo all'interno dei nostri lavori questi sono strumenti che come vedete esattamente insomma come le ombre che abbiamo usato prima con gli oggetti sono strumenti musicali che nascono anche dalla commistione di più strumenti musicali quindi alcuni sono sono anche come dire la commistione tra più elementi proprio perché appunto con con le sagome abbiamo potuto un po' giocare sull'idea di suono però abbiamo realizzato anche altri muri uno dei tanti è questo peraltro in una zona periferica della città di Rivoli sono bimbi che appunto da anni continuano a venire al museo questo muro aveva bisogno di una rinfrescata facendo questo lavoro di art and sound nello specifico abbiamo pensato che appunto queste propagazioni che per noi sono state propagazioni di colore propagazioni visive ma anche di forma in realtà potessero rimandare appunto a delle propagazioni invece sonore quindi è come un suono un battito che poi si espande nello spazio e quindi è la vibrazione musicale che diventa cromia e che quindi in qualche modo continua a parlarci appunto della musica sempre nella possibilità che ci siamo dati di intervenire in luoghi in spazi qua siamo a Venaria non è la parte della Venaria reale la parte della Venaria cittanzi e anche Venaria periferia ci sono questi centri che accolgono i giovani della città che però appunto erano molto usati ma un po' in degrado con i giovani della città noi abbiamo realizzato questo lavoro quindi abbiamo dato loro la possibilità di insieme a noi progettare questi spazi visto che i diversi spazi erano tre ambienti avevano anche destinazioni diverse abbiamo fatto in modo che se era più legato allo sport ci fossero raffigurati elementi che rimandavano a quello se erano legati alla musica potevano essere appunto strumenti musicali in maniera tale da sentirselo loro e da fare in modo che appunto non era soltanto una sorta di riparo che la città offriva ma diventava un loro luogo di appartenenza in cui loro potevano da quel punto riconoscersi e quindi appunto anche loro fare in modo che non ci fosse più il degrado a cui stavano andando incontro questi ambienti quindi noi con loro li abbiamo realizzati hanno fatto proprio un lavoro di formazione sono stati più volte al museo abbiamo fatto vedere loro un po' di nostri percorsi un po' di suggestioni anche di quegli artisti che su questa interazione arte e musica hanno lavorato artisti anche della collezione del museo e quindi poi invece abbiamo realizzato il lavoro progettandolo insieme a loro addirittura la biblioteca della città di Rivoli non era visibile quindi non era frequentata ci hanno chiesto che potesse essere visibile noi abbiamo deciso nel ventitresimo anno di apertura del museo quindi era un diciotto dicembre noi non guardiamo mai le temperature ci buttiamo nei progetti e abbiamo coinvolto le classi di Rivoli e che tutte sono confluite su questo muro abbiamo pensato che i libri in realtà le parole evocano e concretizzano gli oggetti le cose che fanno parte appunto poi dei racconti delle narrazioni ovviamente c'era la mostra completamente non c'era soltanto il lavoro che noi abbiamo in collezione ma c'era una mostra completamente dedicata al lavoro di Oldenburg ed è per questo che appunto questa idea dell'oggetto su cui i ragazzi avevano già lavorato durante l'anno è diventato invece come dire appunto il tema forte di quella superficie di quel muro quindi della biblioteca ovviamente insieme agli oggetti del quotidiano c'erano anche i libri le sagome dei libri che svolazzavano su questo enorme muro abbiamo provato appunto a scrivere non si vede bene biblioteca l'abbiamo fatto però come appunto un'insegna alternativa utilizzando in questo caso la silhouette nera degli oggetti dove invece ci sono queste bande di colore che richiamano i dorsetti dei libri negli scaffali e abbiamo fatto in modo appunto che questo muro potesse essere un segnale importante effettivamente molti ci dicono ma se sono arrivata poi davanti al muro sai lì dove c'è scritto biblioteca con gli oggetti bene vuol dire che insomma siamo riusciti a segnalarlo e a fare in modo appunto che ci fosse una sensibilizzazione maggiore su un luogo importante assolutamente da frequentare come la biblioteca e quindi incentivare la lettura e la conoscenza e il sapere anche in questo caso questo era un muro invece più posticcio perché in realtà dietro quel muro c'erano dei lavori in corso e quindi è stato questo in realtà il primo skyline da noi realizzato siamo a Venaria e nella via principale i pannelli vivono ancora ovviamente all'interno di alcune scuole della città e abbiamo messo questo fondo oro per dare eternità a questi luoghi che sono tutti luoghi che ospitano l'arte ma abbiamo anche fatto in giro per l'Italia insieme alle agenzie TU perché l'Unicredit ha queste agenzie ce ne sono 12 in tutta Italia che si occupano degli extracomunitari quindi hanno proprio una modalità differente proprio per andare incontro alle esigenze di queste persone che a volte banalmente hanno il problema della lingua hanno il problema di entrare in una banca perché appunto sono nelle condizioni di chiedere non di portare denaro e quindi come dire invece loro fanno questo discorso di integrazione anche di appoggio e di aiuto a queste persone la cosa che a noi ha dato modo di lavorare su questo progetto è stato proprio il fatto che le agenzie TU ovviamente sorgono in quelle zone della città che sono abitate da extracomunitari e da alcune comunità nello specifico perché appunto che danno a quel punto anche carattere a quella stessa zona e quindi noi abbiamo invece lavorato nelle scuole facendo prima degli incontri di formazione con le insegnanti in cui questi bambini quindi i figli di queste delle persone quindi delle famiglie che vivono questi territori frequentano e tutte le volte abbiamo fatto in modo di intervenire veramente sulla scuola e lasciare un segno utilizzando questa forma simbolica che in realtà è il logo dell'agenzia TU che noi abbiamo preso ad esempio perché in realtà questo è un logo vedete con le forme stondate sono elementi geometrici tutti diversi ma simili che vanno a intrecciarsi e incrociarsi che cercano appunto la relazione tra di loro e quindi ci piaceva questa possibilità i ragazzi erano molti qua siamo a Genova e vedete che appunto in parallelo abbiamo sempre l'azione di pittura ma poi c'è il muro che rimane in perituro altro muro per noi importante e interessante è stato questo a Monticelli Dongina questo vedete qua stiamo dando colore la base questo praticamente è un silos un silos verticale praticamente in piena campagna a un certo punto peraltro un'azienda agricola anche molto seria l'azienda Civardi ha dovuto mettere questo silos che però sono moduli in cemento armato messi uno vicino all'altro e quindi chi abitava quella zona che ci è andato ha fatto la scelta di vivere in campagna si è trovata un muro di cemento armato abbiamo pensato che però non dovevamo andare a fare i decoratori perché non ci interessa ma dovevamo andare a interagire col territorio ci siamo accordati con l'azienda agricola e abbiamo portato le forme dell'arte perché appunto abbiamo portato il colore abbiamo portato poi lo vedrete anche le silhouette appunto delle mucche che in quel caso non pascolano perché appunto devono mangiare i silati e però abbiamo coinvolto le classi del territorio con loro abbiamo ridato colore a questo muro essendo però elementi tutti uguali noi abbiamo detto che meraviglia stupendo anche un po' tutti perché uno diceva come che meraviglia è un muricemente armato e invece appunto esattamente come avrebbe fatto un artista minimalista questo scandire lo spazio ci ha dato la possibilità di scandirlo cromaticamente in questa compressione cromatica che è quella dell'arcobaleno peraltro funziona anche da deterrente per chi prima invece andava molto forte con la macchina perché su una curva ormai tutti rallentano per godersi questa compressione cromatica che ovviamente in base al punto di vista in cui la si guarda è più compressa oppure si dilata quindi cambia anche le mucche come vedete insomma le abbiamo riportate come ombre perché abbiamo pensato che era importante che i ragazzi potessero ancora immaginarle invece al pascolo e in quel caso specifico peraltro appunto noi abbiamo portato le forme dell'arte Civardi ci ha dato le forme sue della natura quindi abbiamo avuto due belle forme di Reggiano che poi abbiamo spartito tra tutti anche al museo qui invece siamo a Bordeaux Michelangelo Pistoletto due anni fa in ottobre è stato il curatore di questo evento culturale della città di Bordeaux 15 giorni di avvenimenti e lui ha pensato che appunto dovendo creare tanti eventi in tanti giorni non poteva che chiedere a noi di animare queste giornate ovviamente c'erano molti artisti c'erano molti happening convegni e altro però noi abbiamo interagito con la comunità siamo state diversi appunto tutti e 15 giorni nei vari luoghi della città in questo caso siamo all'interno del Grand Park questo è un centro sociale anche questo centro sociale era una struttura anonima degradata all'interno di un quartiere anche problematico perché comunque molto popolato popolare e quindi dove appunto si rischiava invece che essere come dire un riferimento positivo di essere invece appunto altro e allora ci hanno chiesto di agire su su questo centro per ridargli appunto un'identità e questo ci ha fatto molto piacere perché effettivamente nell'arco di una giornata vi assicuro che era molto grande con una bella moltitudine di persone piccoli medi e grandi come sempre questo è un momento già finale eravamo già stremati c'è Michelangelo Pistoletto col cappello bianco che applaude perché è un momento appunto in cui ci stiamo dicendo che è finita ed è andato tutto molto bene poi loro hanno fatto anche una sorta di parade musicale intorno al centro sociale che a quel punto ha dialogato con i suoi volumi per cui appunto tra le colonne tra le forme che erano circolari che rientravano che erano aggettanti rispetto allo spazio insomma siamo riusciti a interagire e a fare una scansione cromatica intorno a tutto il centro sociale quindi abbiamo lasciato un vero e proprio segno eccolo qua ma questo è sempre una parte perché è talmente immenso che ce n'è sempre solo delle parti rispetto ai social project vi dicevo prima che noi abbiamo una serie di attività specificatamente pensate immaginate per chi appunto per tutti i pubblici quindi senza escludere nessuno per cui abbiamo anche realizzato il primo dizionario dei segni della lingua italiana in LIS 80 nuovi segni perché i dizionari esistono da sempre per fortuna al di là di noi ma tutti i termini legati all'arte e alla storia dell'arte che non esistevano prima quindi 80 nuovi segni abbiamo costruito 80 nuove parole nel nostro linguaggio sarebbero 80 nuove parole legate all'arte all'arte contemporanea e questo vi assicuro che noi prima di fare questa ricerca avevamo anche noi idee molto vaghe nel senso che veramente ogni realtà è a sé intanto la lingua dei segni è una lingua a tutti gli effetti ed è molto locale cioè in Italia non sono tutto uguali ci sono addirittura i dialetti e questo quindi dall'Italia all'Europa al mondo ovviamente ci sono dei segni che ha grandi linee ma sono veramente pochi e quindi è una lingua molto specifica peraltro se una persona nasce già sordo muta quindi non ha mai pronunciato le parole difficilmente riesce a imparare a leggere perché si pensa va bene come dire non la puoi pronunciare non la puoi sentire ma la vedi e quindi la leggi non è vero e anche chi appunto invece l'udito lo ha perso però comunque ha difficoltà perché la parola comunque se non è pronunciata non viene visualizzata dal cervello esatto deve essere ascoltata e visualizzata è un linguaggio peraltro quello dei segni iconico perché appunto va a visualizzare la parola e io faccio sempre l'esempio perché appunto anche lì dovremmo anche noi poi riuscire a imparare bene questo linguaggio perché è importante adesso speriamo che man mano col dizionario lo possano almeno fare le persone che invece questo linguaggio già lo conoscono perché ad esempio per dire pittura a olio il segno era sì quello della pittura ma il segno dell'olio era questo ma questo segno è con dire l'insalata cioè quindi anche per restituire un senso rispetto all'arte cioè dire che la pittura a olio era questa cosa qui e invece insieme all'istituto di sordi di Torino che è l'unicredit a Caterina Seia che hanno appoggiato il progetto e quindi Anna Pieronti che ovviamente ci ha creduto Brunella Manzardo che per noi ha fatto la ricerca si è realizzato questo dizionario sono 80 nuovi segni peraltro c'è una ovviamente insomma la lingua dei segni va visualizzata e quindi c'è anche questo lavoro di cronofotografia per cui c'è questa sequenza che in questo caso invece è a L invece che essere solo lineare o andare a capo è a L perché hanno fatto appunto comunque nell'istituto dei sordi delle ricerche anche loro delle sperimentazioni per cui questo modo di leggere l'immagine dà immediatezza e non fa perdere tra virgolette il filo per cui ed ha anche più sequenze quindi devo dire che appunto loro in questo ci hanno dato una grossa mano peraltro anche molto espressiva quindi Luciano Candela che è il sordo parlante che poi è stato il nostro modello per realizzare il dizionario anche lì anche lui ha dovuto prima come dire prendere con sé i contenuti dell'arte dell'arte contemporanea per aiutarci a tradurli poi nella lingua dei segni è stato un bel lavoro di ricerca importante e a nostra volta anche noi abbiamo dovuto capire bene quali erano i meccanismi quali erano le basi almeno le basi della lingua dei segni tutti i limiti e le potenzialità per aiutarlo appunto poi a fare in modo che la traduzione fosse per loro la più attinente possibile anche la più significativa possibile peraltro la cosa interessante di questo dizionario che noi abbiamo diciamo sempre è fatto anche per chi non vuol sentire perché effettivamente è una sorta di manuale di storia dell'arte perché ovviamente i termini non sono solo tradotti con il linguaggio dei segni ma c'è anche una descrizione verbale perché ovviamente il termine viene anche spiegato perché invece per chi lo può leggere nonostante la sordità lo può fare ma quindi può servire per chiunque si voglia approcciare all'arte all'arte contemporanea perché legge queste definizioni che sono basilari e che sono semplici ma non banalizzate quindi è comunque un buon materiale di base per tutti quindi anche in questo senso ci piace perché ci sembra di aver dato un contributo ancora più ampio con loro come vedete facciamo attività anche con loro le più diverse ed è sempre molto bello questo momento perché per loro importante la coralità dell'applauso che è dato appunto da questo movimento delle mani e quindi a noi piace anche acquisire per fortuna ogni tanto impariamo cose belle anche noi e quindi come vedete abbiamo anche un percorso per i non vedenti e anche lì diventa importante capire che cosa loro possono in qualche modo sentire toccandolo che può essere messo a loro disposizione peraltro è stato realizzato insieme all'architetto Andrea Bruno insieme al suo studio un duplice modello del castello della Manica Lunga tattili ovviamente sono modelli in scala che quindi si possono anche toccare per cui si ha anche un po' l'idea visitando il castello di Rivoli potendo toccare questi modellini di che cos'è nel suo insieme il castello di Rivoli pur non vedendolo quindi in questo senso ci sembra di aver fatto un altro passo piccolo passo avanti si possono fare ancora tante cose ma noi ci stiamo lavorando piano piano perché non ci piace solo dire che noi siamo aperti a tutti e questa apertura a tutti è improvvisata quindi ci piace fare le cose piuttosto appunto un pochino più scientifiche più pensate più progettate più mirate e quindi poi speriamo più apprezzate nelle grandi azioni di pittura peraltro questo è il momento che organizza la CPD la consulta delle persone disabili in difficoltà ogni anno intorno ai primi di dicembre perché appunto è la giornata mondiale delle persone disabili a cui noi partecipiamo molto volentieri come vedete appunto i ragazzi tutti partecipano a queste grandi azioni nel caso dei ragazzini in sedia a rotelle come vedete anche lì un banale scamottaggio come quello di portare una plancia delle plance all'interno dell'azione di pittura e quindi portare questo piano rialzato loro che non possono stare buttati a terra come gli altri fa sì che loro possano non avere la difficoltà di pensare che loro non possono partecipare li rende partecipi perché vedete è inglobata nella striscia anzi poi gli altri sono anche poi accorrono anche a dare una mano e quindi ciascuno realizza il suo pezzo come tutti e poi tutti alla fine vedono il lavoro concluso e finito in questo caso abbiamo proprio il progetto che sono gli abitanti la moltitudine migrante a oggi sono 7000 forse anche qualcosa in più in questo caso ce li aveva proprio richiesti la CPD e li abbiamo portati in piazza Castello a Torino abbiamo tirato fuori la moltitudine realizzando anche in quel caso la famiglia della CPD perché i tanti abitanti sono suddivisi non in razze perché la razza è una di quelle umana ma in famiglie e ciascuna famiglia è caratterizzata appunto da un colore da un materiale ma la cosa che li caratterizza maggiormente è che ciascuno di loro è stato realizzato da un bambino da un ragazzo da una persona da un individuo che poi li ha lasciati al progetto quindi anche in questo caso ciascuno gli dà forma e carattere e poi sa che li lascia al progetto perché la moltitudine cresce viaggia migra e porta questo suo essere piccoli fragili ma pacifici e diversi tutti diversi sono appunto umanoidi ricordano l'altro il diverso ma proprio perché sono altro e diverso da noi è importante appunto poterli guardare capire che siamo tutti diversi in questa diversità in realtà è la nostra ricchezza perché questa moltitudine è bella proprio perché è così la moltitudine la rincontreremo nelle collaborazioni in realtà questo era un po' come dire la continuazione legata allo spazio e nel ragazzi di Rimini in cui noi sull'idea dell'energia abbiamo appunto realizzato sia questo mondo anch'esso fatto di plastiche colorate catalogate suddivise per cromie che vanno appunto a riempire i diversi territori fino a realizzare questa idea di fonte primaria che è appunto questa sorta di luce con questa scansione cromatica a partire dal lavoro di questo artista inglese che è Tony Craig il quale dalle discariche sceglie e seleziona oggetti sceglieva e seleziona oggetti perché appunto questo è un lavoro che lui faceva qualche anno fa ma molto importante proprio perché lui non li sceglieva per la loro unicità ma proprio per la loro quotidianità quindi non li cercava strani ma li cercava volutamente appunto d'uso anche molto usati come vedete li metteva sulle mensoli faceva diventare appunto oggetto della riflessione ma gli stessi oggetti come vedete in basso c'è sempre l'oggetto da cui lui è partito che per lui ha poi fatto diventare una grande ombra che poi ha riempito a sua volta con frammenti quindi la sua idea che peraltro non è neanche così da ecologista nel senso che poi lo diventa ma in realtà lui parte dall'idea come dire di smembrare un po' questo nostro mondo quotidiano per farcelo vedere di nuovo da un'altra prospettiva da un altro punto di vista per ingigantirlo per lavorare appunto sull'idea del frammento sull'idea che poi appunto in realtà queste diventano delle vere e proprie sculture perché poi la scultura appunto è materia forma e colore queste sono sculture di materia forma e colore però che partono dallo scarto quindi diventa ancora più interessante perché questo tipo di lavoro che lui continua poi a elaborare in una serie di forme le più diverse anche attingendo dalla storia dell'arte dalla rappresentazione di battaglie importanti e famose fino alle compressioni di oggetti che fa comprimendoli solo nel senso che appoggiandoli l'uno all'altro una volta smontato tornano nei sacchi non è come dire un oggetto unico ma vive sempre nella sua frammentazione per arrivare invece appunto poi al lavoro sull'oggetto adesso io mi sono ripresa l'immagine appunto di Oldenburg perché sul lavoro dell'oggetto vi volevo fare soltanto questa carrellata velocissima in cui appunto al campus baronissi dell'università di Salerno noi abbiamo realizzato di nuovo questi mondi dove però non c'era solo la gomma spugna ma li abbiamo anche realizzati con materiali più diversi utilizzando quindi anche gli scarti degli imballi e quindi il cartone sempre nell'idea e nell'accezione di poter interagire nei tanti e diversi ambienti con le suggestioni le più diverse per poter poi di nuovo comunque arrivare a risultati ed esperienze simili ma sempre diverse qui siamo all'interno dello spazio dove abbiamo invece realizzato l'esperienza a partire dalla struttura prima che la struttura fosse invece azioni di pittura oggetto tridimensionale appunto caricato del peso degli oggetti o elemento bianco della possibilità appunto come spazio della possibilità le azioni di pittura come vedete sono sempre un momento in cui dalla grande superficie bianca si arriva poi invece al campitura e al colore questi sono altri progetti di altri mondi questa è la parte appunto fattuale quindi la processualità l'oggetto viene ripreso viene fatto il suo contorno vengono ritagliati e vengono montati e qua avendo fatto questa cosa ok mondi mondi che sono anche legati al gusto quando si diceva prima i tanti ambiti questa era una collaborazione col salone del gusto di Firenze e noi abbiamo appunto realizzato questi mondi fatti di cibo il cibo ingrandito ingigantito dipinto ma anche realizzato con la gomma spugna e quindi vi assicuro che erano belli da vedere ma non da mangiare ma la tentazione c'era a proposito di mondi abbiamo realizzato anche tanti planisferi in cui appunto se la terra era interazione cromatica il mare navigava invece in alfabeti alfabeti ovviamente che nascono da tutte le culture quindi da tutto il mondo da tutte le parti ogni tanto avevamo dei contributi veri noi distribuivamo i fogli con gli alfabeti di tutto il mondo e quindi le persone li andavano a riprendere a riscrivere copiandoli invece ci capitava ogni tanto di avere anche qualche contributo originale in cui lei appunto stava scrivendo un po' di parole qua avevamo una collaborazione con questa manifestazione legata alla poesia ai fiumi di poesie quindi abbiamo di nuovo realizzato appunto sempre questa idea di mondo di parole che poi diventano narrazione sull'idea di mondo abbiamo partecipato sempre in Palazzo Vecchio a questo convegno che era Geografie Contemporane abbiamo realizzato un paio di planisferi cromatici sia in esterno che all'interno anche se poi l'interno era questo balcone bellissimo meraviglioso in cui appunto in estemporanea abbiamo realizzato il mare di queste terre invece quindi il mare policromo di queste terre invece nere sempre in Palazzo Vecchio anche perché appunto le sale delle carte geografiche sono anche loro parte del percorso dei visitatori c'era questa idea appunto di mondo di geografia che si andava a sperimentare che si andava a studiare da cui si partiva con tutte le sue interpretazioni con tutti questi suoi mondi nascosti che erano appunto queste carte geografiche che a volte appunto con animali fantasiosi quasi venuti da altri mondi e quindi a partire da questa suggestione noi abbiamo fatto un lavoro di ricerca sull'idea appunto del globo del mondo di tutti quegli artisti che in qualche modo ci hanno lavorato da Yves Klein con il suo blu a Giulio Paolini con questo suo mondo di pianeti che poi diventano anche l'astrolabio quindi diventano anche come dire la possibilità in divenire di essere mondo perché vedete che sono forme trasparenti e vuote ma perché appunto sono lo spazio della possibilità il mondo di Michelangelo Pistoletto che a lui è servito anche per girare le città per essere mondo come azione corale la monatum con questa sorta di mondo gabbia di meridiani paralleli dove però appunto poi ci dà uno spiraglio di relazione possibile Chen Zen a Biennale di Venezia del 97 abbiamo anche il progetto è un po' di particolari di questo suo di questa sua operazione all'interno dei giardini era un lavoro molto bello molto potente appunto sull'idea dei popoli che possono convivere possono parlarsi anche se si danno la schiena anche se stanno intorno per arrivare appunto a questo lavoro sul solco del mondo di Piero di Piero Manzoni che compariamo al lavoro di Monatum che ovviamente gli fa l'omaggio Piero Manzoni a un certo punto decide di mettere di far diventare il mondo un'enorme scultura quindi gli mette la base è per questo che la scritta è al contrario perché in realtà noi dovremmo poter vedere quella base che tiene su il mondo potenzialmente lo fa e lui lo fa proprio nella totalità dell'esperienza che noi possiamo fare insomma lui è noto per i suoi soffi d'artista per le sue scatolette di merda d'artista ancora oggi discutissime quindi discutissime e che però appunto come dire immette veramente degli elementi critici all'interno del fare artistico che tra gli anni 50 e gli anni 60 hanno dato un ottimo apporto al pensiero sull'arte e sulla sua evoluzione e Mona Atum peraltro appunto ne realizza uno dove invece usa usa dei materiali più organici e quindi fa come dire fa un omaggio ma dando già una sua riflessione assolutamente più immersa nel contemporaneo e questa idea di mondo mi piaceva chiuderla con questa linea del 59 di Piero Manzoni che misurava il mondo con queste tante linee perché effettivamente come dire c'è una registrazione di spazio ma anche di tempo perché ci vuole un tempo per tracciare una linea e potenzialmente quindi quella poteva diventare una forma una misura soprattutto del mondo perché tanti segmenti poi possono diventare la misurazione del tutto e quindi ovviamente insomma in questa sua dichiarazione possiamo accettare anche la sua linea che peraltro chiudeva sempre nei barattoli e consegnava in questa idea di linea noi abbiamo portato sempre l'alluminio a Venezia in occasione di questa biennale che aveva questo titolo pensa con i sensi senti con la mente l'arte al presente e abbiamo pensato che visto che ci hanno chiesto una formazione perché di nuovo un avvenimento importante come quello della biennale di Venezia vede il suo territorio che magari la biennale la va a visitare ma in ambiti che sono più estemporane che non poi culturali e formativi quindi noi abbiamo realizzato insieme agli organizzatori della biennale momenti di formazione ma anche di azione con le persone in modo che poi questo era pre-biennale una volta inaugurata la biennale ci fosse più consapevolezza di quali erano i temi che erano stati toccati in quella particolare biennale quindi qua in Campo San Polo noi abbiamo lavorato declinando realizzando gli acrostici con appunto il titolo della della mostra quindi pensa con i sensi senti con la mente che abbiamo declinato peraltro anche in più lingue infatti ogni tanto qualcuno dice sì ma qui non si capisce cosa hanno scritto ma perché c'erano anche tanti turisti stranieri e giustamente hanno declinato ciascuno nella sua lingua questo titolo ovviamente poi l'alluminio viene arrotolato e ridiventa altro ridiventa mondo forma gomitolo eccetera a Padova invece i monumenti rilucenti perché appunto quello era l'elemento che caratterizzava quel determinato luogo sempre con le scaglie in questo caso dell'alluminio riprese le silhouette le sagome di quei monumenti abbiamo evocato questo specchio d'acqua facendo fare esperienza alle persone e a quel punto mettendo anche in evidenza questi che sono i monumenti che abitano la zona e che quindi gli danno corpo e carattere abbiamo un altro tra i tanti progetti in progress abbiamo anche Urban Life che nasce peraltro da da una mostra di artisti al castello di Rivoli una mostra prettamente legata alla pittura e all'idea appunto della città nella storia nella storia dell'arte e quindi abbiamo chiesto invece ai giovani di darci una loro idea di città dove ovviamente potevano anche essere scorci potevano essere particolari potevano essere visioni della propria città non non usuali e quindi abbiamo ricevuto un'infinità di file fotografici che noi a nostra volta abbiamo stampato che sono diventati appunto poi la possibilità di fare di nuovo laboratorio esperienza perché abbiamo lavorato su queste immagini ma poi le abbiamo anche esposte questo è un lavoro in progress che noi continuiamo a promuovere quindi a far crescere tra le collaborazioni abbiamo anche quella con la fiera internazionale del libro e della musica e realizziamo per la fiera da tantissimi anni la come dire la parte scenografica dell'allestimento scenografico dello spazio giovani e spazio ragazzi e gestiamo anche le attività quindi in questo caso Faces in the Crowd che era una mostra presente al castello di Rivoli diventa anche l'opportunità la possibilità di fare questo tipo di allestimento abbiamo deciso di utilizzare questo impianto molto grafico molto Mondrian ma in questo Mondrian che quindi astrae in qualche modo i piani della realtà vedete che si affacciano invece tutti quei personaggi che noi speriamo facciano parte anche del mondo della cultura contemporanea dei giovani quindi personaggi in quel caso specifico intravedete Pasolini ma ce ne sono stati tanti altri nel mondo della cultura dalla musica fino ad arrivare alla letteratura al cinema quindi abbiamo veramente voluto mettere un po' tutti quelli che speriamo appunto non siano solo i nostri miti ma possano essere delle figure di riferimento per la cultura dei giovani la Rita Levi Montalcini Gandhi e quant'altro la Laurie Anderson Einstein e qui arriviamo alle sedute che prima vi ho fatto solo intravedere peraltro qua siamo in questo palazzo storico di Roma e questi sono veramente dei signori manager dell'Unicredit che si trovano a fare questa formazione noi ci siamo inseriti ovviamente eravamo previsti nella formazione e loro stanno arrotolando questi quotidiani stanno arrotolando i resi nel senso che loro arrotolano essendo quotidiano il giorno dopo è già scarto è già superata anche la notizia non solo materialmente il giornale ma proprio quello che sopra ci sta scritto e quindi noi abbiamo pensato che con questi scarti loro arrotolandoli diventavano dei moduli potevano progettare perché loro progettano tutte le volte l'oggetto che vanno a realizzare lo motivano addirittura gli danno un titolo e poi per essere appunto sempre un po' nella logica manageriale c'è una sorta di gara e quindi c'è un'esposizione perché poi c'è una votazione quindi c'è anche la sedia vincitrice però poi appunto quello fa sì che insomma loro siano incentivati anche alla riflessione alla progettazione e soprattutto alla motivazione e quindi appunto ciascuno poi presenta la propria sedia queste sedie insomma noi le abbiamo anche un po' sistemate messe a posto sono utilizzabili assolutamente non vi assicuro noi le abbiamo anche in laboratorio sono solo un po' pesantine però questo vuol dire che così non spostandole troppo si preservano un po' di più ma due persone le spostano agevolmente e sono sempre il frutto cioè la base è la stessa è sempre un quotidiano arrotolato ma cambia proprio l'idea la progettualità il montaggio quindi come dire è proprio una possibilità di riflettere di nuovo su uno scarto quotidiano e sulla possibilità che questo scarto quotidiano può invece riprendere vita forma e funzione soprattutto quindi in questo senso peraltro la prima azione che noi abbiamo fatto l'abbiamo fatta sul prato di Mantova a Mantova per in occasione del festival della letteratura e infatti l'operazione si chiamava Siediti e Leggi perché era automatico quindi vedete che le sedute sono le esatto le più diverse queste peraltro erano anche leggere perché questi erano Deplian in disuso nostri del museo che abbiamo portato a Mantova sul prato del castello di San Giorgio li stiamo realizzando se vedete siamo riusciti anche a far calare dal balconcino di Isabella d'Este quelli quattro bande cromatiche che poi in realtà da lì partivano e si dipanavano in tutta la città perché a quel punto con i vecchi Deplian non solo abbiamo realizzato le sedute ma abbiamo realizzato appunto queste linee cromatiche che attraversavano tutto il festival e mettevano in connessione i vari luoghi quindi abbiamo fatto parecchi danni in giro in giro nei diversi luoghi e quindi vedete che sono sempre diversi e ripeto si possono usare non sono fotofinte le persone sono lì con il loro peso a realizzarle ovviamente noi ci ispiriamo sempre al lavoro degli artisti per cui in questo caso questi sono i resi dei giornali del fiume appare di un lavoro storico di Mario Merz che vedete che sta lì seduto sul suo lavoro in questa sorta di appunto di linea di scansione di onda d'urto quindi di energia che poi torna il neon si intravede qua si vede meglio è la famosa appunto sequenza di fibonacci che viene trasposta in numeri ma questi numeri in realtà sono numeri luminosi fatti di luce perché sono al neon e quindi c'è di nuovo questa energia che viene evocata la serie di fibonacci appunto nasce da questo studio sulla proliferazione in natura ma che questi numeri appunto trasposti in geometria diventano la famosa spirale di cui parlavamo prima la sequenza è semplice nel senso che si parte sempre dal 1 più 1 dalla coppia perché erano proprio studiate le coppie degli animali e come potevano proliferare quindi 1 più 1 che fa 2 2 più 1 che fa 3 3 più 2 che fa 5 5 più 3 che fa 8 e poi andiamo avanti nel senso che appunto si somma sempre la somma precedente quindi all'infinito sulla molla antonelliana abbiamo la sequenza di fibonacci in tutto il suo splendore qui vedete ci sono altre possibilità anche loro se la sono pensata per cui volendo la si può arrotolare e tenere tridimensionale ma la si può aprire quindi diventa stuoia qua invece c'è uno schienale che sta al centro e che man mano vedete invece poi evolve e diventa altro loro sono sempre manager sempre persone che nella vita fanno altro ma che poi a un certo punto incontrano noi e capiscono che poi appunto nel fare si possono anche cambiare le prospettive i punti di vista e soprattutto ci si può mettere nella condizione di affrontare questioni che sono completamente avulse dal proprio contesto qua siamo nella sede centrale dell'unicredit di Torino e la banca ha chiuso e noi immediatamente abbiamo messo giù in nylon realizzato appunto queste finte pareti in verticale per realizzare con questi che erano i top manager che arrivavano da tutto il mondo dell'unicredit questa seduta di pittura utilizzando tutti quei simboli che avevamo trovato nelle varie loro documentazioni bancarie quindi che sono anche come dire disegni ma anche segni che per loro significano che in questo caso invece ingigantiti diventavano la base per l'azione di pittura devo dire che si sono fatti coinvolgere tutti noi di questo siamo stati contenti perché qualcuno è stato in piedi a dipingere ma molti invece sono stati anche loro a terra al suolo a dipingere la loro parte questa che però è un'azione di pittura legata all'inaugurazione dei giardini della venaria reale è diventata invece anche l'immagine di un loro report dove vedete che appunto c'è questa idea di prospettiva che a loro è piaciuta e quindi l'hanno fatta proprio esattamente come invece questo lavoro quelle che vedete sono vere e proprie barchette di carta colorata ed era appunto quest'azione dentro quelle barchette in realtà che non era solo intanto mettersi a fare la barchetta e quando l'abbiamo fatto siamo resi conto che non le sa fare più nessuno nei bambini nei nonni nessuno e quindi abbiamo almeno restituito un fare un realizzare da un foglio di carta un gioco dare forma e dall'altra parte invece dentro c'erano i testi delle tante poesie appunto nel fiume delle poesie in cui dei veri e propri poeti avevano donato in quell'occasione delle loro poesie delle loro riflessioni quindi in realtà chi le ha realizzate si è letto le poesie e ha fatto con noi tutto un percorso sempre nell'accezione di intrecciare appunto noi qua stiamo intrecciando un mondo perché poi i simboli le immagini devono essere sempre forti e potenti a un certo punto perché devono restituire l'esperienza e quindi non vi dico cos'è stato sospendere questo tappeto non c'era neanche il parapetto quindi facciamo anche cose un po' al limite ma ovviamente lavoriamo sempre in sicurezza e quindi in realtà l'idea appunto era un po' quella di dare senso poi alle cose che facciamo dovendo dare senso alle cose che facciamo nel farle io direi che se volete è l'1 e 10 eh? se volete possiamo fare pausa pranzo ci diciamo quando ci ritroviamo perché io vi lascerei con questa immagine con queste immagini perché in realtà al rientro prima di cominciare di nuovo a parlarvi di un po' di cose perché ci terrei farvi vedere sia il progetto degli abitanti la moltitudine emigrante che avete intravisto prima che il terzo paradigma Michelangelo Pistoletto quindi chiuderei con questi due progetti per noi importanti e soprattutto vivi vitali perché li stiamo seguendo e dobbiamo ancora fare proprio delle grandi azioni insieme a loro ehm questa idea di di dialogo creata da Lighiero Boetti con questi suoi arazzi e quindi noi insomma se oggi avete voglia riusciamo dovremmo realizzare questo piccolo arazzo insieme in cui vedrete che ne verrà fuori un altro diverso da tutti quelli che lui ha realizzato e ne ha realizzati tanti quindi l'idea era un po' l'idea era un po' quella ovviamente noi non dovremmo ricamare o cucire basterà sì poi ce lo rimandi e lo inseriamo e quindi vedete che lui qua ci sono dieci riquadri dieci per dieci sono centro quadrati all'interno in realtà i quadrati hanno all'interno una loro griglia di dieci per dieci quindi una sorta di tautologia e ognuno di questi quadrati dietro ha un'indicazione intanto una numerazione perché bisogna seguire una sequenza come se fosse una narrazione vera e propria da poter leggere che poi si leggerà visivamente e sia un'indicazione rispetto a questo bilanciamento tra il bianco e il nero è una storia di bianco e di nero è appunto una storia di due soggetti dove alla fine invece scopriamo che non c'è nessuno che prevale sull'altro e quindi c'è questo dipanarsi nella situazione che all'inizio sembra molto chiara poi diventa caotica che poi ridiventa chiara ma sempre nell'ottica del dialogo quindi attivare situazioni e cercare appunto il dialogo è possibile con Alighiero Boetti possiamo provare a provarlo e quindi a determinarlo noi ok tra poco grazie a tutti